Sono Elena Ugazio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università di Torino e desidero presentarvi un'attività che mi vedrà impegnata insieme ad alcuni colleghi all'evento che ci sarà il 27 di settembre sulla Notte dei Ricercatori. Si tratterà in modo particolare di parlare di cosmetici, infatti il titolo sarà Amici per la Pelle perché questi importanti alleati del nostro benessere psicofisico sono accompagnatori fondamentali della vita di tutti i giorni e di tutti noi uomini, donne, grandi, piccoli, noi li usiamo quotidianamente talvolta forse senza sapere che stiamo utilizzando dei cosmetici se ne parla parecchio ma non sempre se ne parla forse nel modo corretto ci saranno anche delle attività legate alla sensorialità dei cosmetici per capire qual è la percezione, per esempio il profumo, la gradevolezza quando si spalmano e poi si parlerà un po' di pelle, di protezione, di detergenza quindi vi aspettiamo presto e arrivederci!